Sì, intanto vi ringrazio per averci offerto una panoramica così interessante di queste tre zone del mondo, abbiamo visto come all'interno di queste tre zone del mondo effettivamente si nascondano delle motivazioni politiche rispetto a quelle che vengono ufficialmente date sulla costruzione di questi muri, motivazioni politiche che mirano a dividere, ad annientare, ad annichilire quelle che sono le esperienze quotidiane di lotta, di resistenza, esperienze di desiderio di libertà, di autodeterminazione ma anche di giustizia sociale, di giustizia ambientale. Questi sono paesi diversi che però hanno visto delle esperienze comuni di rivoluzioni dal basso che cercano quotidianamente di inceppare i meccanismi di guerra e di distruzione del territorio e della società civile quotidiane. Proprio per questo, sono proprio queste le esperienze dal basso a cui noi quotidianamente guardiamo e a cui vogliamo camminare a fianco. Io ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato questa sera e per questo quadro così interessante che ci hanno offerto di questi tre paesi. Ringrazio il pubblico che ci ha seguito qui direttamente dallo Sherwood Festival, ringrazio lo Sherwood Festival che ci ha ospitato sul Second Stage, anche chi ci seguiva da casa in streaming. Vi ricordo che per tutte le informazioni e per continuare a informarsi anche rispetto a questi tre paesi che abbiamo conosciuto questa sera potete guardare sui nostri siti www.globalproject.info e Sherwood.it. Grazie e buona serata.